questa è un aerob, noi atterriamo qui vedi ci fermiamo a 1600 metri di attitudine con l'aereo porca puttana, che scaletta deve avere quell'aereo sarebbe meglio comunque chiedere a qualcuno, ora non c'è nessuno, tu vedrai che sono tutti fuori a pranzo si ma ricordati che loro sono due ore avanti rispetto a noi, cosa vuol dire questo? vuol dire che stanno due ore in più a tavola il giorno è una giornata un po' caldina oggi, cioè non è una giornata da dolfino sulla destra e sulla destra ci ha fatto stremire, voleva dire spaventare, voleva dire spaventare, noi stiamo aspettando, stiamo cercando la signora Uambua c'è uno, è nero, ma com'è alto, è un extracomunitario porca puttana, sono arrivati anche in Africa, guarda che sono dappertutto veramente che cerca di vendermi un accendino, ti giuro che glielo tiro qui sull'orecchio è calmo calmo grazie a tutti grazie a tutti